Perseguitava da tempo l'ex moglie e la figlia minorenne con minacce di morte e appostamenti. Squadra mobile della questura di Monza ha arrestato per stalking un italiano residente in provincia. Le indagini coordinate dalla procura sono scattate dopo la denuncia asporta dalla vittima, sperata da anni dal coniuge. L'uomo non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione sentimentale, compiendo fin da subito atti persecutori. Per questo aveva già subito due condanne, finendo anche in carcere. Nonostante ciò, ha continuato a contattare in maniera ossessiva l'ex moglie, mosso dalla volontà di impedirle di rifarsi una vita, rivolgendo le minacce di morte sia direttamente che tramite la figlia minorenne con numerosi mensaggi vocali. Si recava inoltre sotto la loro abitazione con atteggiamenti intimidatori, creando un forte stato d'ansia nella giovane e nell'ex moglie che ormai viveva nella convinzione che prima o poi sarebbe stata uccisa. Nei primi giorni di novembre, l'ennesimo episodio di violenza, l'uomo è giunto sotto casa delle vittime inviando a audio con minacce di morte, cercando di entrare con la forza nell'abitazione. Madre e figlia hanno chiesto l'intervento della polizia. Le indagini svolte dalla squadra mobile hanno fornito alla Procura della Repubblica Cittadina un quadro completo della situazione che le due donne erano costrette a vivere. Il timore di uscire da sole, la limitazione delle uscite solo per esigenze indispensabili, la ricerca di soluzioni nuove ogni sera per parcheggiare l'auto senza che potesse essere individuata, uscire in compagnia fisica o telefonica di parenti e amici, controllare continuamente che si trovasse intorno a loro. La Procura ha valutato l'esito delle indagini, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Le allarme e truffe nel monzese. Mercoledì, nel giro di nemmeno due ore, cinque persone anziane residenti nel capoluogo sono state oggetto di un tentativo di raggiro al telefono. Le vittime hanno tutte prontamente segnalato quanto accaduto alla centrale operativa della questura di Monza. Un uomo, chiamando da un numero anonimo, si è presentato in qualità di maresciallo dei carabinieri e ha raccontato che un parente, figlio, figlia o nipote del chiamato aveva subito un incidente. Servono soldi per poterlo aiutare, ha detto alle potenziali vittime, proponendo poi un incontro per la consegna del denaro. Una truffa ormai notissima, ma che purtroppo continua a fare vittime anche in Brianza. Immediatamente sono state attivate le volanti della Polizia di Stato presente sul territorio, nonché personale della squadra mobile. Svolti controlli nelle zone di residenza di chi ha ricevuto le telefonate, principalmente nei quartieri Cazzanighe e Triante. Ma il fenomeno, spiega la questura, è diffuso non solo a Monza, ma in tutta la provincia. Altra metodologia di truffa, segnala la polizia, è attuata da finti tecnici dell'acqua, che chiedono di controllare le apparecchiature presenti in casa. Mentre la vittima accompagna il malfattore, un complice entra nell'abitazione e sottrae quanto di valore riesce a trovare. Altre volte riescono direttamente a convincere i malcapitati a farsi consegnare denaro e gioielli. La Polizia di Stato richiama l'attenzione di tutti i cittadini, ricordando di non fidarsi di sconosciuti che fanno richieste di denaro e di tenere a mente il modus operandi dei truffatori. Questura invita infine tutti i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto o tentativi di truffa subiti. Al 112, numero unico d'emergenza, solo con la collaborazione di tutti, è possibile arginare il fenomeno. Un territorio ricco, dove i cittadini lavorano per il bene comune, conoscono i loro diritti e chiedono che siano tutelati. Così vede la Brianza Salvatore Barilaro, calabrese, nuovo questore della provincia di Monza. Già dirigente dell'antimafia Roma, è stato vicequestore vicario a Cosenza, Potenza e Lecce. Poi l'incarico a Monza, il primo da questore, che inizierà nel solco dell'opera del suo predecessore. È un lavoro ben avviato, ben portato avanti con la struttura della questura di Monza e della Brianza che ovviamente ha delle esigenze, esigenze importanti che non sono quelle dell'ex commissariato di Monza. Quindi da questo punto di vista, nel solco delle esperienze del collega che sono state importanti, proseguirò l'azione di polizia in modo tale che l'immagine della questura e la soddisfazione dell'utenza possa essere massima. Mi aspetto, come ho già detto, innanzitutto, in un territorio molto ricco di persone per bene, che lavorano e che pretendono i loro diritti, conoscono bene, hanno contezza dei loro diritti e pretendono che le istituzioni siano al loro fianco per tutte quelle che possono essere le esigenze. Quindi non mi aspetto nulla di più di quello che ho già detto, che saremo a disposizione del cittadino, che è il nostro utente privilegiato. Polizia di Stato, come acronimo, ma non polizia che persegue interessi diversi da quelli del cittadino. Quello che a noi interessa è lo stato di soddisfazione da un canto e di sicurezza del cittadino, perché la sicurezza è una necessaria condizione per lo sviluppo del territorio. Il Comune, vedo semplicemente, in questi contesti non ha nessun ruolo. Le modalità di accoglienza... Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Silenzio, signora, per favore. Consigliere Allevi, consigliere Allevi, consigliere Allevi, silenzio. Sospendo la seduta, la seduta è sospesa. Tensione in Consiglio Comunale a Monza, la protesta dei residenti in merito alla possibile apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo in via Monte Oliveto, all'interno dell'ex scuola. Ha costretto la Presidente Cherubina Bertola a sospendere la seduta con l'intervento della Polizia Locale per placare gli animi. A sollevare la questione, l'ex sindaco Dario Allevi. Signor sindaco, quanto di vero c'è sullo stabile di via Monte Oliveto che sarebbe pronto ad accogliere un centinaio di migranti nelle prossime settimane? E le anticipo di più. Mi auguro fortemente che non si limiti a rispondermi che la vicenda non è di mia competenza perché come l'ho già ricordato forse può raccontarlo questo a qualche ingenuo cittadino ma non al sottoscritto. Ci sono passato prima io su quella sedia per cinque anni con due prefetti diversi. Io non so quante riunioni in quante riunioni abbiamo sempre cercato soluzioni condivise per accogliere le quote di migranti spettanti al nostro territorio. Allora le domande in questi incontri lei con il prefetto del nostro territorio ha mai evidenziato la sua contrarietà nel pensare ad un'unica location per un numero così alto di migranti? Non piace all'amministrazione l'idea del possibile maxi centro di accoglienza come pure le modalità con cui la cooperativa ha reso noto il suo progetto. In ogni caso la procedura di gara della prefettura non si è ancora conclusa e il bando non è ancora stato aggiudicato. È impensabile che persone, cento che non sono inserite in alcun sistema di integrazione e che sono privati di alcun supporto da parte dei servizi sociali o di altri servizi possono in qualche modo trovare in tempo breve una modalità di inserirsi nel nostro territorio. È preoccupante perché questa modalità di gestione avrà dei risvolti sul quartiere e sull'intera città. È un progetto indegno ed è un progetto preoccupante. Sono le stesse parole che ho usato nelle sedi adeguate. Cara impresa non sei tu a decidere e se il tema è tu puoi sopravvivere solo se hai cento persone lì dentro. Cara impresa nel caso in cui il prefetto individui te come destinatario della consegna a seguito del bando di qualsiasi incarico evita di firmare perché noi non saremo con te perché io col prefetto non ho mai parlato dicendo chiedo scusa io non sono nessuno. Il prefetto con me in nome dell'amministrazione comunale in nome dell'amministrazione che rappresento non mi ha mai parlato di cento persone da scaricare sul territorio monzese. mi ha parlato dell'esigenza di trovare elementi di compensazione che possono significare CAS magari non piccoli come un CAS di un appartamento per 4 o 5 persone ma non certamente CAS da cento. La stazione Monza Est si farà. È stato avviato il progetto di fattibilità tecnico-economica e sono state trovate le risorse ad annunciarlo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Il progetto che ha un valore di 6 milioni e mezzo di euro vedrà la compartecipazione di RFI per 5 milioni e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco Per completare l'opera mancavano delle risorse e su richiesta del territorio comune e regione il Ministero si è attivato con gli enti preposti RFI ha recuperato i fondi per la realizzazione dell'opera L'attivazione della fermata è prevista nella seconda metà del 2027 Da tempo come Regione Lombardia chiedevamo di reperire le risorse mancanti per la sua realizzazione commenta l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi Ora con l'intervento del Ministro Matteo Salvini RFI ha recuperato 5 milioni e è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico-economica Il progetto prosegue Terzi è fondamentale perché con il passaggio del treno Besanino i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza Circa 71 miliardi di euro di fatturato complessivo una reddittività in termini di eroe pari al 14% e 91% di aziende che hanno chiuso inutile È stato un 2022 con numeri da record per le 800 maggiori imprese e brianzole secondo il progetto di ricerca realizzato dal Centro Studi a Solombarda per le edizioni di quest'anno del Top 500 Plus Le prime 15 aziende della Brianza superano la soglia degli 800 milioni di fatturato e 9 di queste totalizzano ricavi maggiori al miliardo In vetta l'Esprinette di Vimercate seguita da Media Market SPA di Verano e ST Microelectronics di Agrate Chiudiamo un altro anno positivo il 23 era un anno che si era presentata con tantissime incertezze perché avevamo avuto un 22 con grandissimi risultati avevamo da combattere contro una recessione che stava iniziando ad arrivare con dei prezzi dell'energia molto alti detto ciò le imprese hanno performato benissimo nei primi mesi nella seconda fase adesso c'è un po' più di difficoltà ma si chiuderà un altro anno direi in maniera molto positiva per l'anno prossimo vediamo un po' di difficoltà perché la domanda si è un po' allentata però siamo fiduciosi che le imprese e la loro capacità di andare all'estero di essere sempre innovative e di riuscire a trovare nuovi mercati possono poi dopo nel corso del 2024 riuscire a rinvertire la rotta Un anno di crescita buona dunque per l'Abrianza dalla produzione manifatturiera all'esportazione dal ritorno ai livelli pre-covid di tutti i settori con in testa farmaceutica chimica ed elettronica all'aumento del tasso di occupazione al 69,7% Le imprese in molta abbrianza abbiamo visto i dati di questa sera stanno bene un territorio di 400 km quadrati che riesce a sviluppare 70 miliardi di fatturato non so quante altre zone al mondo riescono a ottenere dei risultati come questi è vero il 2023 ha dei momenti di incertezza un po' più pronunciati però abbiamo una ragionevole certezza che il 2024 possa essere un anno che può approfittare di situazioni come si ipotizza il calo dei tassi che possono permettere alle aziende di tornare ad investire quando le aziende investono e poi alla fine lavorano quello che noi chiediamo è innanzitutto al governo nostro quello di mettere sempre più le aziende nella possibilità di investire in ricerca e innovazione che è l'unico volano che crea veramente valore e per quanto riguarda poi dopo il tema Europa di cercare di essere sempre più vicini e uniti per far sì che l'Europa porti avanti delle misure che non siano anti-imprese come tante che ne sono state proposte durante il 2023 è nella storica Palazzina Liberty di via Tommaso Grossi a Monza che ha trovato sede il neonato palazzo del lavoro della provincia di Monza e Brianza e di Afol un edificio da 2200 metri quadrati che dopo una profonda ristrutturazione con i fondi del piano straordinario di potenziamento diventa ora sede di importanti servizi per cittadini e imprese come il centro per l'impiego di Monza gestito da Afol e i servizi al lavoro di collocamento mirato della provincia con quest'ultimo che attraverso la legge 68 e il piano lift contribuisce anche al supporto di persone con disabilità e al loro accesso nel mondo del lavoro questo palazzo questo palazzo che sorge in una sede storica che di fatto va ad unire quello che è l'imprenditoria Brianzola poi al potere finanziario con la banca che è ospitato fino agli anni 80 e poi una sede istituzionale con la seconda sede della provincia dopo Piazza Diaz diciamo la sua conclusione naturale in un centro che cercherà di dare il massimo per fornire servizi per il lavoro per avvicinare l'offerta di lavoro delle imprese a quella che è poi invece la presenza di lavoratori sul territorio e non dimenticando un tema fondamentale per la società e per le imprese che è la formazione un ambiente all'avanguardia con strutture e sale moderne supportato da strumenti di realtà virtuale a servizio dei cittadini e in grado di offrire diversi servizi di politiche attive del lavoro tra cui percorsi di bilancio delle competenze ricerca del lavoro e percorsi di formazione il palazzo del lavoro oggi rappresenta una grandissima opportunità ma soprattutto un ponte con i nostri cittadini che sanno che all'interno di queste mura di questo splendido palazzo che è stato recuperato anche grazie ai fondi destinati al potenziamento dei centri pubblici dell'impiego troveranno delle risposte certe concrete per accompagnarli quindi una presa in carico a 360 gradi del nostro cittadino delle nostre persone partendo dall'assessment e quindi dalle loro inclinazioni partendo da una valutazione rispetto ai percorsi di formazione che dovranno fare fino ad arrivare all'inserimento al reinserimento nel mondo del lavoro il palazzo del lavoro aprirà i cittadini dal 6 dicembre dal lunedì al venerdì su appuntamento dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 quasi mille nuovi alberi andranno a rinverdire il parco di Monza ferito dai disastri meteorologici degli ultimi mesi ad annunciarlo il consorzio per la villa reale e il parco di Monza si tratta per l'esattezza di 953 tra alberi e arbusti tra questi l'acero il ciliegio la quercia il nocciolo la rosa selvatica il tiglio le piante sono state prodotte la vivaio forestale regionale di Ersaf a Curno sono piantine selvatiche di età compresa tra 1 e 3 anni prodotte con seme raccolto in boschi filari campestri e ambienti naturali per i prossimi anni si prevede la piantumazione e la cura di oltre 10.000 esemplari l'intervento è stato realizzato dalla struttura Ersaf di Milano e rientra tra le attività previste finanziate dall'accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale della villa reale del parco sono molto soddisfatto per la professionalità del personale di Ersaf e per questo ringrazio il direttore generale Massimo Ornaghi con cui abbiamo condiviso da primo giorno lo stesso approccio lavorare per la tutela del parco di Monza spiega Giuseppe Di Stefano direttore generale del consorzio un grande aiuto straordinario e incondizionato l'abbiamo ricevuto in quei giorni di fine luglio a poche ore dal concerto di Bruce Springsteen Ersaf ha messo in campo tutte le forze a disposizione con personale e macchinari per mettere in sicurezza i viali e le aree dove martedì i 25 luglio hanno transitato oltre 73 mila spettatori la collaborazione tra consorzio ed Ersaf nei nostri piani condivisi con regione vede la realizzazione di una serie distaccata dell'ente dentro il parco di Monza per pianificare con efficacia e competenza la gestione del patrimonio verde dell'intero parco la collaborazione con il consorzio per la villa e il parco di Monza rientra pienamente nelle attività di Ersaf dice Massimo Ornaghi direttore di Ersaf è un lavoro che non si limita solo alla ripiantumazione del patrimonio arboreo andato distrutto con i drammatici eventi meteorologici di luglio ma si prolunga anche nella cura e nella manutenzione di tutto il parco sappiamo bene infatti come sia fondamentale la successiva attenzione alle piante per evitare problemi in futuro come Ersaf abbiamo tutte le competenze tecniche per supportare il consorzio per la tutela e la valorizzazione del parco ase grazie 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 a tutti.